Abbiamo 30 bambini al nido e 70 bambini alla materna, circa la metà sono di Bogliasco e gli altri sono bambini di Pieve, di Capolungo, Nervi e Quinto. Al mattino un quarto alle otto partiamo con il nostro pulmino e arriviamo fino a Quinto dove prendiamo i bambini di Quinto, Nervi e Capolungo. All'interno nostro ci sono 13 maestre e 2 cuoche, abbiamo il nido che è diviso, nido piccolo e nido grande come lo chiamiamo noi perché all'interno ci sono i bambini che vanno dai 7-8 mesi e arrivano fino all'anno, l'anno e mezzo e li teniamo divisi dagli altri che l'anno e mezzo arrivano fino ai 3 anni. Così come per la materna li teniamo divisi per fasce d'età, abbiamo i 3 anni, 4 anni e 5 anni. E quanto è importante sostenere strutture del genere? È fondamentale perché i servizi per la prima infanzia sono un servizio sociale, aiutano la famiglia sia in termini educativi che anche ad esempio laddove la donna lavora rispetto alla possibilità di mantenere il lavoro. Queste strutture oltre ad essere forti dal punto di vista educativo hanno un pregio che è quello di creare se stesse lavoro. 13 dipendenti in un periodo in cui il lavoro manca rappresentano una buona impostazione dei servizi. I servizi qualificano l'attività e dall'altra parte creano occupazione. La scuola parificata, la scuola integrata e la collaborazione sono all'insegna di un buon governo di un territorio.